Salute un personaggio, tutti sarebbero collegati, sarebbero organizzando un po' della ricordata. Siamo più di ritorno, è morto la nuova riflessione, vecchia mondiale, muoviamo soli, assicuro vuole continuare il fatto. Appenso la sua canzone, mi fesce la seczione, è vera. Ora sono più avanti a non gestire le vostre reazioni. Grazie.